Sono molto contento che un nutrito gruppo di parlamentari dell'alleanza tra il nuovo centro-destra e Udc abbia firmato un documento rivolto alla Commissione europea per chiedere che l'iniziativa dei cittadini europei, denominata uno di noi, sia messa in discussione nel prossimo Parlamento in modo serio e approfondito e che quindi la Commissione attuale, che dovrà anche se essere rinnovata, non chiuda in alcun modo il dibattito. Mi sembra una cosa molto importante, si tratta non soltanto di difendere e riconoscere il diritto alla vita fin dal concepimento, come chiede questa iniziativa, ma si tratta anche di rispettare la democrazia, che ci sia un dibattito, questo è quello che hanno chiesto due milioni di cittadini e che quindi i candidati accolgono nel senso di dire vogliamo discuterne noi se saremo eletti, non altri, non deve essere chiuso ed è una sfida che viene lanciata perché non vogliamo nemmeno chiudere questa richiesta alla Commissione nell'ambito di un solo partito. Tutti coloro che credono alla democrazia possono aderire e dire sì, noi vogliamo che si discuta, se saremo eletti vogliamo partecipare alla discussione.